A partire dai piccioni viaggiatori in poi fino al cellulare, che è il nostro bagaglio personale che sta in tutte le tasche di ciascun uomo, noi vogliamo raccontare la storia di questo mezzo, di questo media, che sembra che prenda campo sempre di più. Anche Arezzo celebra la giornata mondiale della radio, proclamata dalla conferenza generale dell'UNESCO sin dal novembre 2011 e non poteva che farlo al Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, che al suo interno ospita un'esposizione permanente sul tema che conta oltre 2000 pezzi. Il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo ha uno scopo principalmente didattico, quindi è un museo che è proprio nato e pensato a livello didattico per le scuole e per i ragazzi, per far capire che niente è scontato di tutto quello che noi abbiamo oggi e in particolare oggetti anche come quello della radio, che ha una funzione fondamentale a livello informativo per portare proprio la comunicazione anche nei posti in cui è anche più difficile. Tre i principali temi dell'edizione 2020 della giornata, sostenere il pluralismo radiofonico, incoraggiare la rappresentanza in redazione con team composti da diversi gruppi sociali e promuovere infine una varietà di contenuti editoriali e tipi di programmi che riflettano la varietà del pubblico. Ricorre proprio la giornata della radio ma della diversità nella radio, che è una diversità nei contenuti. Per esempio i contenuti possono essere musica classica, possono essere jazz, possono essere rock, possono essere contenuti anche più generalisti, quindi radiofonici, di tipo di informazione, in cui si fa informazione o in cui semplicemente si manda musica leggera, quindi estremamente diversificata ed è diversificata anche nei generi perché all'interno della radio comunicano molte donne. La giornata della radio, oggi stesa anche ad Arezzo, è da sempre celebrata nella sede istituzionale della RAI per la Toscana. Il direttore generale della sede regionale, Andrea Iengo, offrì da subito infatti la sua ospitalità. Un direttore straordinario, di cui io ero il braccio destro, come diceva lui, braccio destro, gamba destra, occhio destro. È stata un all'unisono lavorare per dieci anni con lui, lo ricordiamo oggi e spero che tutte le iniziative che noi abbiamo promosso in questi dieci anni vengano comunque portate avanti.